Ma nel mondo dell'economia circolare, già oggi i carciofi possono diventare imballaggi totalmente biodegradabili. Succede all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove si studiano i materiali intelligenti del futuro. Cinzia Dicianni. È una specie di meccano fatto con molecole vegetali invece che con mattoncini colorati. L'obiettivo è convertire gli scarti di frutta e verdura in bioplastiche da destinare a imballaggi 100% biodegradabili. Una procedura messa a punto dalla squadra materiali intelligenti dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Una ventina di ingegneri fisici e chimici che da novembre recuperano scarti e invenduti del locale mercato ortofrutticolo per sperimentare nuovi metodi di riciclo. I risultati più promettenti, anche sotto il profilo energetico, sono quelli ottenuti a partire da polveri di vegetali essiccati e macinati, oppure da trattamenti in acqua che smontano le macromolecole di cellulosa, lignina e pectina che formano i tessuti vegetali. Le molecole sono poi riassemblate in compositi termoformabili che possono essere facilmente estrusi nelle forme desiderate. Il primo prototipo, nato da tecnologie brevettate da IIT, è un imballaggio derivato dai carciofi e destinato a sostituire il tradizionale alveolo nelle cassette di frutta e verdura, ma legumi o zucche possono andare altrettanto bene. In questo modo si chiude il cerchio virtuoso che riporta all'interno del mercato parte dei rifiuti prodotti, recuperando materia prima dalla frazione organica e riducendo l'uso di materiali derivati da fonti fossili. Le ricerche per sostituire la plastica con prodotti biodegradabili si moltiplicano in tutta Europa, dove ogni anno si producono quasi 26 milioni di tonnellate di spazzatura plastica, di cui il 31% finisce in discarica. In particolare, secondo la Commissione europea, il 95% del loro valore, tra 70 e 100 miliardi di euro l'anno, va perduto a causa del brevissimo periodo di utilizzo degli imballaggi, che invece nell'ambiente sopravvivono fin troppo a lungo.